Grazie, mi è piaciuto molto, mi ringrazio anche Andrea per le belle parole dette sull'umanità appunto noi condividiamo questa idea di percorrere la città per scoprire chi fa qualcosa per la città e raccontarlo agli altri e poi anche quella parte delle anime perché appunto io cerco di raccontare come Andrea e come molti altri le varie anime della città perché io ogni giorno percorro dalla mattina alla sera le strade, le piazze, conosco persone e molte altre, la maggior parte delle persone non le conosce queste cose per cui riteniamo veramente necessario raccontarle e farle scoprire e soprattutto far capire che la città non è solo centro o periferie ma è tutto questo, è un insieme, sono le anime della città che io ricerco e attraverso la ricerca di queste anime cerco anche la mia perché appunto quando lui mi ha chiesto di mostrare la trasformazione di Milano in effetti per me è legata alla mia trasformazione perché io ho vissuto in Portogallo chi mi conosce lo sa dieci anni e quando sono tornata nel 2014 sono atterrata proprio in una città in cambiamento e quindi l'ho accompagnata in questo cambiamento e mi sono trasformata con lei, per me è molto importante è sempre un'emozione ed è sempre, il mio cuore è sempre nella città quando faccio le foto cioè lì ci sono sempre con lo sguardo e con il cuore quindi per me ogni scatto è un'emozione chi mi vede probabilmente mentre sto scattando mi vede sovridere perché mi emoziono anche quella appunto della persona, io le faccio molto estentivamente, sto appunto andando da quella l'ho trovata bellissima, infatti è quella della copertina, altri sguardi io stavo semplicemente passando da quell'angolo, ho visto quello sguardo di lui verso la ragazza oppure stavo pensando e quindi mi ha colpito, l'ho scattata e sono continuata perché non ho giornato io posso essere in tre quartiere diverse della città quindi non sto magari un'ora o due a pensare alla foto la foto mi viene sentivamente nell'incontro con quello che sta cambiando anche perché appunto Milano veramente sta cambiando il bene sono i cittadini come diceva sì sì no, infatti io i cittadini che incontro mi comunicano anche questo cambiamento io sono rimasta a Milano anche per quello in teoria io tornavo per poi ripartire per Lisbona mentre sono rimasta perché Milano mi ha dato tanto e io ho messo il cuore a Milano, Milano mi sta restituendo questo perché in effetti io vi ringrazio a tutti, siete tantissimi e molti di voi sono le persone conosciute in questi anni di cambiamento mi sta regalando persone, anime, bellissime esperienze e vi ringrazio Pasquale, tutte le persone in organizzazione tutti appunto gli amici che sono qui e grazie, non sto a parlare bene come gli altri grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti